Ciao a tutti e tutte da Serie TV Italia, anche questa volta Gianni Aman fa parlare di sé. Ovunque vada il bel attore turco Gianni Aman, trova folle di fan che lo aspettano. Ma scopriamo questa volta dov'era e perché. Prima di andare avanti non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna news. Gianni Aman tornato dal 78esima mostra cinematografica di Venezia, dove ha ricevuto il premio Filming Italy Best Movie Award 2021. Giovedì per molte fortunate che si trovavano a Roma, in zona piazza del popolo se lo sono trovato di fronte. Sì il bel attore turco era a Roma per girare uno spot pubblicitario, per la Tudors di Roma che ha aperto il suo primo negozio di abbigliamento in via del corso prima dell'estate, ed stato inaugurato proprio da Gianni Aman loro testimonial. Reduce dalla maratona dal red carpet al Lido di Venezia per il Festival del Cinema Eccolo a Roma. E non poteva sfuggire all'obiettivo dei paparazzi e delle numerose fan che passeggiavano per via del corso. Tutto è cominciato alle ore 8 e 35, il set prende vita. Davanti al famoso caffè rosati che si trova a Piazza del Popolo. Un via vai di attrezzature. Arrivano una serie di camice, stiratri. Tavola da stiro e 15 persone della produzione turca che organizzano la scena. Fanno accomodare l'attrice turca, bellissima, al tavolino del bar e ciak, si gira. Lei, da sola che contempla la bellezza della piazza. Era tutto tranquillo, sembravano normali riprese cinematografiche, come tante se ne vedono a Roma. Poi, ecco spuntare i due bodyguard, arrivano le volanti della polizia direttamente dal commissariato del distretto. Si dispongono sulla piazza, a monitorare le distanze di sicurezza. Ed ecco la sorpresa. Alle 13 e 15 fa il suo ingresso Gian Yaman a bordo di una macchina con i vetri oscurati. Scende e raggiunge il set. Gian è il protagonista dello spot per la griffe turca di camice. Seduto al tavolino, occhiali da sole, capelli lunghi sfoggia una camicia bianca. Le fan se ne accorgono e scatta la corsa al selfie e video. Cellulari alla mano, ragazzine in delirio. E la polizia interviene per bloccare la folla di fan innamorate del bel attore turco. Se voi eravate allo stesso posto di queste fan, cosa avreste fatto? Fatecelo sapere sotto nei commenti. E non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna. Nuova news!